Ehi, che aspetti? Corri a scaricare la nostra app, è gratis, ci sono news, contest, guide e molto altro. Cercala per iPhone e iPad, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione. E salve a tutti per ritrovare in questo nuovo appuntamento con Apple Zine, siamo qui in un nuovo appuntamento della serie Unboxing, oggi abbiamo un solo pacco. Ma prima di aprire questo pacco, volevo dirvi due cose, la prima è che è passato il Black Friday, è passato il Cyber Monday e non ho comprato niente. E voi mi direte, perché Mirko non ha comprato niente? Perché praticamente non ho trovato niente di davvero interessante, cioè praticamente ho tutto quello che mi serve. E onestamente parlando, non sono riuscito a trovare un prodotto che mi intrigasse tantissimo, con il fatto che comunque le aziende mi mandano i prodotti. È difficile trovare un prodotto che ti attira, perché li hai praticamente già tutti ed effettivamente nell'armadio sono pieno di prodotti. Sia durante il Black Friday e anche durante il Cyber Monday, che oggi praticamente durante questa registrazione che sto effettuando, ma la vedrete ovviamente domani, martedì 29, lo sto registrando lunedì 28. Io volevo sapere da voi cosa avete comprato voi, scrivetemelo qui sotto nei commenti, cosa avete comprato voi al Black Friday, al Cyber Monday, fatemi sapere quali prodotti avete scelto, magari poi gli do un'occhiata anche io. Ma andiamo subito ad unboxare questo pacco, è un mini pacco, dovrei sapere il contenuto, ma ovviamente lo andiamo comunque a spacchettare, buttiamo tutto nella pattumiera e andiamo ad aprire. Allora, cosa troviamo in questo pacco? Allora, troviamo, 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 che è un po' aperto, ma si sarà aperto durante il tragitto. Allora, troviamo intanto queste, che sono delle cuffie dorate, sì, dorate della Gellico, credo di aver pronunciato bene, della Gellico che testeremo, molto carine. In EAR, sì, buone, carine, carine. Ovviamente sono con cavo da 3,5 mm e poi una cosa che ho chiesto espressamente di farmi mandare, visto che ho sistemato da poco l'iPhone, da poco l'iPhone. Questo è lo spoiler, ragazzi, cosa ho fatto dai riparo? Dai riparo ho fatto questo, ho fatto sistemare l'iPhone e a giorni dovrebbe uscire il nuovo video che vi mostrerà, ovviamente, cosa è successo dai riparo. E ho chiesto espressamente questo, ovvero due display in vetro temperato. Per forza, ragazzi, perché se no, diciamo che non va bene, non va bene. Quindi questi sono i due prodotti che mi sono arrivati oggi. A breve arriverà il video, spero, entro questa settimana, perché ho mille cose da fare, spero di riuscirci entro venerdì, sabato, al massimo. Il video che praticamente ci farà vedere, anzi, vi farà vedere cosa è successo dai riparo, come mi hanno riparato l'iPhone e tutto il resto. Ci sono tante cose che dovrete scoprire, quindi le scoprirete molto presto. Ma io, ragazzi, come al solito, vi ringrazio per aver visto questo nuovo video, vi rimane a 100 miliardi per l'episodio, iscrivetevi e commentateci. Alla prossima puntata è sempre qui con Mirko per Apple Zane. Ciao! Ciao! Ciao!